Puntuali come sempre, eccoci pronti per un nuovo aggiornamento riguardante il nostro cielo. La giornata di martedì sarà caratterizzata dal variare della pressione atmosferica, che finalmente ci porterà ad una situazione più estiva, tornando ad aumentare su tutto il nostro territorio, garantendoci così maggiore stabilità e un conseguente aumento delle temperature, soprattutto sui settori pianeggianti. In particolare per quanto riguarda il nostro territorio provinciale, nella notte e mattinata il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso. Vedremo solamente delle possibili velature in transito, che però non escluderanno un rialzo delle temperature già da metà mattinata. Nelle ore pomeridiane in pianura non vedremo grandi variazioni, infatti le condizioni resteranno per lo più stabili, mentre nelle prealpi osserveremo una modesta attività cumuliforme, che fortunatamente però non sarà associata a fenomeni. In serata la situazione cambierà. Dei modesti rovesci investiranno infatti la fascia prealpina e tutte le pianure limitrofe. Si tratterà tuttavia di fenomeni per lo più isolati e di breve durata. Passiamo dunque all'analisi delle temperature, che come potete osservare alle mie spalle, saranno in generale rialzo a tutte le quote, con valori che si riporteranno, come anticipato, su valori intorno alle medie del periodo, raggiungendo valori massimi di 28 gradi e minimi di 7 gradi. Per questo appuntamento con le previsioni del tempo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.